Dov'è Dome? Dome? Dome ha rotto il cazzo? Oh, finalmente mi vedo il di Alba! Vabbè, questo è un grande classico. Grande classico... Di chi non trova. Di chi non trova. Tipo me, io non trovo più. Ho dato, ho fatto, non trovo più. Andiamo a fare il pezzo, a eseguire il pezzo, quello lì, com'è? Quello bello. E' l'ignore, sicuramente. Quello buono garantito. Quello buono garantito. A presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.